Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale YouTube da Simone Pasqua questa è la vetrina natalizia anche questa di Ermini Arcobaleno aspettate un attimo un negozio di articoli da regalo, giocattoli, casalinghi, biancheria, cartoleria e ferramenta dove potete trovare veramente di tutta, d'Acqua Sparta poi in descrizione vi lascio come sempre la loro pagina Facebook che è d'Ermini all'Arcobaleno vedete robe insomma oggettistica per la casa, per la vostra casa, per il vostro arredamento per il vostro benessere tipo cappelli, tipo guanti, robe, cioè decorazioni natalizie molto molto carine addirittura delle pantofole per il vostro benessere quotidiano oggettistica per il vostro cammino, cuscini, insomma trovate veramente di tutto un negozio davvero davvero ben fornito ad Acqua Sparta un fiore all'occhiello dell'economia locale quindi io in descrizione vi lascio il link della pagina Facebook e non vi resta che andare a trovare questo bellissimo negozio qui ad Acqua Sparta e non vi resta che andare a trovare questo bellissimo negozio